Questo modulo didattico è dedicato al ragionamento in condizioni di incertezza. Si compone di quattro unità didattiche. In questa prima introdurremo il tema e parleremo, acceneremo alla distinzione fra probabilità e credibilità e parleremo un pochino più da vicino di cosa si intende per vaghezza e come questo concetto di vaghezza concettuale, vaghezza semantica, è stato affrontato dalla intelligenza artificiale. La seconda unità didattica introdurrà il concetto fondamentale, che è quello di probabilità oggettiva e ci soffermeremo sul concetto di probabilità condizionale, vedendo anche un esempio a riguardo. La terza unità didattica affronterà il centrale teorema di Bayes e vedremo anche un esempio a riguardo, un esempio di utilizzo e poi la concluderemo introducendo una delle difficoltà principali dell'utilizzo della teoria di probabilità per stimare la credibilità di un'informazione e cioè il concetto di probabilità soggettiva. Nella quarta ed ultima unità didattica di questo modulo vedremo come si può effettivamente calcolare la credibilità di un'informazione alla luce della evidenza che si ha circa altre informazioni che sono in qualche maniera correlate con questa utilizzando per poter far sì che il calcolo possa essere fatto in tempi utili il concetto di indipendenza statistica cioè il problema che vedremo è che la teoria di probabilità può essere effettivamente il fondamento matematico su cui andare a calcolare la credibilità delle informazioni ma se la utilizziamo nella conoscenza di senso comune abbiamo che le difficoltà computazionali potrebbero essere insuperabili a meno che non facciamo delle ipotesi ulteriori sulla indipendenza statistica delle varie informazioni di cui possediamo di cui siamo in possesso allora introduciamo adesso il concetto fondamentale di ragionamento sotto condizioni di incertezza il tema è questo che tutta l'intelligenza artificiale basata sulla logica ha affrontato sin dal suo sorgere delle critiche importanti ed effettivamente significative che si basavano prevalentemente sul fatto che la logica tratta di cose che sono informazioni che sono o vere o false e cioè non solo non ammette un terzo livello di verità ma non è minimamente in grado di catturare il concetto di incertezza così come lo abbiamo noi dalla conoscenza di senso comune sin dal momento in cui la acquisiamo la conoscenza perché già dal momento in cui noi acquisiamo la conoscenza o perché ci viene riferita o perché l'abbiamo letta o perché ne abbiamo fatto un'esperienza diretta mediante i nostri apparati sensoriali di questa conoscenza noi possiamo averne una stima di un valore di credibilità appunto che non è necessariamente tutto vero, tutto falso questa gradualità di credibilità fin dal sorgere dell'intelligenza artificiale basata sulla logica la logic based artificial intelligence ha effettivamente destato molte critiche e a queste critiche si è poi fatto si è fatto fronte in qualche maniera andando a sviluppare dei meccanismi di trattamento della incertezza che al sorgere non hanno direttamente non tutti perlomeno anzi una migranza la maggioranza ha fatto riferimento a criteri che non erano basati sulla teoria delle probabilità perché sostanzialmente si vedeva che la probabilità così come era stata studiata nei due secoli precedenti si riferiva appunto a probabilità che certi eventi potessero accadere concetto questo che era visto differente da quello di credibilità che una certa informazione potesse essere vera non che non avessero delle abbastanza evidenti similitudini ma erano giudicati sufficientemente diversi perché si avvertisse la necessità di sviluppare nuovi metodi matematici per trattare l'incertezza che magari trovassero ispirazione dalla teoria delle probabilità ma fossero anche in buona parte differenti anche per motivi anche di complessità di calcolo e quindi ad esempio questo che stiamo vedendo che è stato uno dei primi sistemi esperti dell'intelligenza artificiale utilizzato alla identificazione di infezioni batteriche che risale al 1970 da parte della Università di Stanford questo insieme ad altri sistemi esperti erano basati su una caratterizzazione dell'incertezza definita da certi specifici fattori di certezza era sostanzialmente una modulazione matematica che si ispirava a quella delle probabilità ma ne rappresentava una semplificazione un adattamento sostanzialmente quello che si faceva si andava a definire per esempio delle regole assunte dal dominio specifico in cui il sistema esperto andava ad operare queste regole venivano fornite da esperti di dominio esperti umani e poi a queste regole veniva associato un certo fattore di certezza che unitamente a analoghi fattori di certezza legati alle conoscenze di base fattuali che si determinavano in un certo dominio andavano poi a definire anche un certo grado di certezza delle conclusioni a cui i ragionamenti automatici arrivavano sia in senso forward in senso cioè predittivo che in backward in senso cioè diagnostico sia in senso deduttivo non predittivo che in senso diagnostico queste modellazioni matematiche però furono subito anche viste come modellazioni un po' troppo ad hoc che si diversificavano e che sostanzialmente non avevano una semantica filosoficamente ben fondata e anche io ho avuto esperienza diretta di questo perché fino agli 80 e primi anni 90 quando ci trovavamo a provare a definire come potesse dovesse variare il grado di giudizio circa l'affidabilità di una fonte di informazione a seguito del fatto che le informazioni fornite da questa fonte andava in conflitto con informazioni fornite da altre fonti non ci basavamo all'inizio sulla teoria delle probabilità su niente che avesse a che vedere con la teoria delle probabilità ci basavamo piuttosto su modellazioni di di fenomeni che potessero essere analoghi quindi pensavamo per esempio agli urti fra masse con energie differenti e cercavamo ispirazione per esempio dal mondo fisico e man mano che abbiamo proceduto nel corso di un anno o due con queste modellazioni a un certo punto abbiamo affinato dei metodi di ricalco dell'affidabilità delle fonti di informazione a seguito di contraddizioni manifeste fra le fonti stesse e mi ricordo bene che un ragazzo che mi fece notare che quel metodo Carlo Ceresi che quel metodo che avevamo sviluppato fosse a riguardarlo bene nient'altro che una applicazione del teorema del teorema di Bayes fu un momento per me importante perché capì che a questo punto tutta questa timidezza che si era avuto e questo anche senso di rispetto ma anche di distacco che si era avuto da parte del mondo dell'intelligenza artificiale verso la preesistente di molto preesistente teoria delle probabilità probabilmente doveva essere messa da parte e dovevamo tornare umilmente a guardare alla teoria delle probabilità per vedere di trovare lì sì i fondamenti della gestione della incertezza sì perché sostanzialmente quello che si capiva e si intuiva è che un conto è prevedere quale sarà l'esito di un lancio di un dado esperimento paradigmatico proprio della teoria delle probabilità quindi previsione dell'esito di un evento sulla base di conoscenze o osservazioni passate altra cosa sembrava essere la domanda la domanda circa per esempio il grado di appunto credibilità che un certo evento storico fosse avvenuto per esempio che il fatto che l'eroe dei due mondi avesse incontrato nel 1860 Vittorio Emanuele II o no e quindi quanto è credibile che ci sia stato questo incontro oppure quanto è credibile che durante questo incontro si siano scambiati queste informazioni questa domanda sembra essere fondamentalmente diversa da quella di chiedersi quanto è probabile appunto da un lato si dice probabile che un lancio di un dado dia un risultato pari dall'altro quello arancione si intende un giudizio di credibilità dunque che cosa ha a che fare la credibilità con le probabilità secondo Laplace che si è anche lui dedicato un po' a definire il concetto di probabilità per lui che era un determinista la probabilità non era altro che buon senso nella stima del livello di ignoranza la teoria matematica delle proprietà che era ancora solamente accennata logico-matematica che era solamente accennata per lui era solamente un modo ragionevole basato sul buon senso di stimare il livello di ignoranza che si aveva circa la conoscenza di un certo fenomeno perché lui che era appunto un determinista diceva noi conoscessimo perfettamente le condizioni iniziali posizione del dado composizione del dado intensità della forza con cui viene lanciato l'altezza rispetto al pavimento la natura del pavimento eccetera tutto ciò che non ci consente di prevedere esattamente quale sarà l'esito del lancio di un dado è dovuto sostanzialmente alla ignoranza circa il fenomeno che stiamo osservando dal punto di vista fisico e in fondo l'ignoranza si può dire che è anche alla base del fatto che non siamo in grado di dare un giudizio di credibilità netto vero o falso su un evento che per esempio è accaduto nel passato certo questa ignoranza non è un'ignoranza sulla conoscenza del fenomeno fisico che si sta osservando però è pure una forma di ignoranza basato sul fatto che non erano presenti quando si è svolto quell'evento erano presenti fonti che poi hanno riferito l'evento e queste fonti erano più o meno credibili le stesse fonti che possono aver percepito o non percepito correttamente l'evento che stavano osservando eccetera eccetera ignoranza blu nelle probabilità ignoranza arancione nella credibilità di un evento che magari si è verificato nel passato ma ci potrebbe anche essere una ignoranza circa un evento che si può verificare nel futuro per esempio nei concorsi pronostici ci si può fare domande di questo tipo ho detto probabilità ma volevo dire quanto è credibile che la Juventus vinca la Champions League l'anno prossimo una risposta a questa domanda di credibilità prima mi sono un attimo avuto un lapsus perché ho detto probabilità è in qualche maniera simile la probabilità e condivide con la probabilità di nuovo esattamente come l'accertamento di un fatto avvenuto nel passato anche la previsione di un fatto che viene in futuro è basato ancora su un concetto più o meno diffuso e facilmente anche identificabile di ignoranza io non so le condizioni che si svilupperanno nel corso di quest'anno non so tante cose quindi come posso stimare la credibilità che la Juventus vinca la Champions League l'anno prossimo oppure simpaticamente non mi abbia il stimatissimo attore Claudio Bisio noi ci possiamo chiedere per esempio quanto è credibile che Claudio Bisio abbia 18 capelli adesso questo stranissimo esempio che sto facendo sarà chiaro perché ho fatto questo esempio fra un attimo intanto l'esempio quanto è credibile che Claudio Bisio abbia in questo momento 18 capelli fa capire che l'incertezza non riguarda necessariamente un qualche cosa che sia accaduto nel passato nel futuro ma potrebbe riguardare un qualche cosa che è vero nel presente e di nuovo l'incertezza però sarebbe basato su qualche livello di ignoranza chi mai è andato a contare i capelli o dalle foto non è possibile quindi dagli elementi che abbiamo a disposizione anche se il fenomeno diciamo così di cui vogliamo esprimere un giudizio è presente e corrente però dagli strumenti di acquisizione dell'informazione non possiamo sapere qual è il grado di certezza riguardo il fatto che Claudio Bis possegga 18 capelli però riassumo quello che ho detto fino adesso il ble e l'arancione condividono cioè la probabilità e la credibilità condividono il fatto che sono semanticamente basati su l'ignoranza e non sapere esattamente come stanno le cose altra cosa è la parte che invece qui ho evidenziato in verde altra cosa secondo me è vero che quelle domande che io sto adesso per porre potrebbero essere stesse effette da un livello di incertezza però se togliamo l'incertezza sgomberiamo l'incertezza rimane comunque un certo livello di di disturbo rispetto al al concetto di vero falso se io mi pongo la domanda ma Claudio Bis è o no calvo è allora qui il punto non è che io non ho elementi per valutare se Claudio Bis è o no calvo è semplicemente che io non so cosa significa essere calvo mentre avere 18 capelli significa esattamente un'informazione molto netta molto ben definita essere calvo non è un predicato molto ben definito più o meno abbiamo tutti intuito circa cosa significhi ma io potrei dire io sono sicuro che Claudio Bis è calvo ma semplicemente non so esattamente cosa significa quello che sto dicendo oppure io potrei dire Claudio Bis ha 18 capelli e so perfettamente quello che sto dicendo e anche chi ascolta sa benissimo quello che sto dicendo semplicemente ci aggiungo ma io non ne sono sicuro un conto è non essere sicuro di un'informazione precisa un conto è essere sicuro di un'informazione vaga non è la stessa ontologicamente i due temi quello della incertezza e quello della vaghezza sono diversi potrei un altro esempio per esempio Catullo ha scritto vari componimenti dedicati a lesbia e ha anche uno famosissimo Odi e Tamo e se ci poniamo una domanda se Catullo ama o no lesbia a questa domanda si può dare una risposta con certo grado di valore ma di nuovo qui il tema non è quello dell'incertezza il tema è quello del significato del verbo amare cosa significa lui ha detto quindi c'è contraddizione fra amare e odiare e allora se non c'è che sembra essere il suo significato opposto l'odio e l'amore ma se possono esistere che grado di coesistenza hanno ma allora cosa significa il verbo amare cosa significa essere calvo cosa significa amare quindi qui il tema sul verde è un tema sul significato prima di soffermarci su questo perché questa unità didattica è un pochino più specificamente dedicato al tema verde qui voglio anche accennare a un tema di cui questo modulo didattico non tratta tratta e l'argomento è quello introdotto da regola di questo tipo gli uccelli volano gli uccelli volano è un esempio di una regola che viene utilizzata ovviamente come tantissimi ovviamente questi erano i sistemi esperti ma è una regola che essa potrebbe essere affetta da un grado di certezza però qui la riporto perché questa regola è stata nei primissimi anni 80 e fino a metà degli anni 90 alla base di una concettualizzazione totalmente diversa ha dato il via cioè a così intento tema del ragionamento non monotono cioè ragionamenti di questo tipo io prendo questa regola come vera che gli uccelli volino fino a quando non incontro per esempio un uccello che è un pinguino oppure un uccello che è uno struzzo allora se io vengo a sapere che Tweety è un pinguino e so che i pinguini sono uccelli ne deriva che Tweety vola vedo che Tweety non vola c'è una contraddizione allora a questo punto o rimuovo la regola che la considero vera fino a prova contraria che gli uccelli volino oppure rimuovo il fatto che i pinguini siano uccelli oppure sono costretto a ritenere che il pinguino prima o poi volerà cioè una di queste alternative la debbo scegliere cioè in pratica si creano quando si trovano delle contraddizioni non si lavora tanto al diminuire la credibilità dell'informazione ma si lavora al creare dei branch sui vari sviluppi delle teorie logiche uno che accetta una cosa uno che ne accetta un'altra e si va avanti chiaramente questo modo di fare è un modo che preserva il valore di vero falso in senso assoluto le logiche non monotone ma anche fa delle scelte anche piuttosto drastiche le cose si possono comporre fra di loro quindi un ragionamento non monotone si può anche comporre con l'incertezza però concettualmente questo modo di approcciare le regole che sono generiche ma hanno delle eccezioni in maniera totalmente diversa quindi ricapitolando fra probabilità e credibilità c'è di base che entrambe sono basate sulla ignoranza e quindi potrebbero effettivamente avere una semantica comune e forse si può sperare di ottenere risultati interessanti prendendo una modellazione matematica delle probabilità e trasferendola alla modellare le credibilità per quanto invece riguarda la vaghezza la parte verde forse è caso di sviluppare e così è stato in passato delle metodologie di modellazione matematica più specifiche quindi adesso mi concentro in questa seconda parte di questa unità didattica sullo specifico tema della vaghezza perché è un tema a cui avrei voluto dedicare una che meriterebbe di trovare molto spazio nella intelligenza artificiale perché è stato così in passato e perché una delle applicazioni più importanti della vaghezza la fase logic anzi la implementazione più importante ha avuto delle ricadute filosofico concettuali ma anche tecnologiche molto importanti per esempio nell'industria giapponese molte telecamere molti elettrodomestici sono stati basati sulla fase logic laddove si andava grazie alla fase logic a rappresentare matematicamente concetti vaghi come per esempio il concetto di c'è molta luce c'è poca luce per quanto riguarda l'apertura dei diaframmi delle videocamere oppure il bucato è molto sporco e poco sporco per quanto riguarda per esempio le lavatrici questa classificazione come stiamo per vedere sfumata è stata alla base di una nuova approccio alla alla logica denominato fase logic prima di addentrarci su questo argomento voglio richiamare una differenza fondamentale fra il ble e l'arancio perché il ble ovvero la teoria di probabilità è effettivamente si basa sul concetto frequentistico di probabilità e quindi questo è un concetto abbastanza oggettivo di probabilità mentre quando andiamo a prendere esattamente lo stesso impianto matematico ma lo andiamo a applicare sulla credibilità vedremo che la credibilità a questo punto soffre di un elemento in più ne parleremo ne accenneremo e cioè il fatto che non si basa su quante volte l'eroe dei due mondi ha incontrato Vittorio Emanuele II ma oppure non si basa su quante volte la Juventus aveva vinto la Coppa dei Campioni ma si basa su altri concetti che sono quelli che stanno alla base della definizione di probabilità soggettiva vedremo quindi questo è un problema appunto è filosofico e avrà anche delle ricadute sulla significatività dei risultati a cui si arriva applicando la probabilità a modellare la credibilità lo vedremo nella terza unità didattica però adesso torniamo a quello che è invece la parte che conclude questa unità didattica cioè parliamo un po' di vaghezza stavo dicendo che ne avrei voluto parlare di più perché perché in realtà questo signore qui Loft Zadek è stato il primo che ha definito insieme fasi matematicamente e ha dato con la semantica dei fasi set ha dato con il concetto di fasi set ha dato una semantica a quella che lui stesso ha inventato fasi logica ha avuto come dicevo delle ricadute molto importanti sia concettuali filosofiche che tecnologiche questo l'ho detto e quindi lo voglio un attimo celebrare ci ha lasciato non da molto nel 2017 e ha accompagnato sicuramente è stata una delle figure importanti che in maniera un pochino parallela però ha accompagnato certamente la storia dell'intelligenza artificiale e ha avuto una quantità ovviamente sterminata di discepoli due dei più importanti che ho avuto fin dall'inizio sono Didier Dubois e Embry Praid che scrissero già mi pare nel 1982 uno dei primi libri fondativi della teoria della fase logic e vedo che anche nel 2012 quindi a distanza di 20 anni 30 anni hanno riproposto questo libro ovviamente ci sono anche tanti altri che parlano della fase logic dei fasi 7 però se dobbiamo citare qualcuno che ha fatto proprio la storia questo è uno di questi libri quindi torno al punto l'idea di ZD fondamentale è stata questa qui che noi possiamo oltre a definire basata su la semantica dei predicati basata sul concetto di insieme insieme degli elementi del dominio che godono di quella proprietà oppure insieme degli elementi del dominio che sono in quella relazione fra di loro insieme in senso diagrammi di Venn netti noi possiamo definire anche degli insiemi sfumati dove cioè esiste un grado di appartenenza da parte di quell'individuo a quel dominio a quell'insieme l'insieme dell'individuo e del dominio che godono di quella proprietà o che stanno in quella relazione con altri soffermiamoci per esempio sul caso più semplice concettuale e cioè quello di avere una certa proprietà io posso dire per esempio che l'insieme che hanno delle persone che hanno 18 capelli è netto ma l'insieme delle persone che sono calve è sfumato nel senso che si può appartenere a quell'insieme ma si può anche non appartenere e il grado di appartenenza a quell'insieme per esempio si può pensare essere definito da sondaggio quindi se il 100% delle persone intervistate stabiliscono che una persona ha 0 capelli è calva e poi gradualmente all'aumentare dei capelli piano piano questo percentuale comincia a scendere fino a che a un certo punto se hai un certo numero di capelli questo percentuale è 0 in pratica questo esperimento mentale che sto facendo caratterizza e definisce non la caratterizza ma una funzione di appartenenza a quell'insieme all'insieme delle persone calve in inglese funzione di membership e quindi la semantica della vaghezza potrebbe essere basato sul concetto di appartenenza vaga a un insieme vagamente definito cioè con una funzione di membership che potrebbe essere definita magari mentalmente con un sondaggio ma poi la si può anche approssimare magari con una funzione proprio specificata in maniera analitica e se noi concettualmente poi lo andiamo a fare anche con altri insiemi per esempio volendo rimanere sulla stessa variabile numero di capelli io vado a definire ad esempio un'altra funzione di membership come per esempio la funzione di appartenenza all'insieme guarda che mi sono dovuto andare a pensare per fare un esempio dell'insieme di candidati interpreti musical di un film Hair magari per poter essere membro del cast di un set cinematografico del genere o di un musico del genere probabilmente il numero di capelli sarà importante ma sarà importante quasi in senso per esempio inverso a quello dell'essere calvo se hai zero capelli probabilmente hai poche chance di diventare il protagonista di quel musical all'aumentare del numero di capelli magari le chance aumentano e quindi abbiamo qui un'altra funzione in violetto allora per dare solamente il senso base della semantica della fuzzy logic cioè il concetto di fuzzy set che è questo vediamo anche come Zade cominciò a introdurre anche una semantica negli anni 60 per i connettivi della logica proposizionale poi andò avanti anche con i quantificati non tanto con il terzo andò pure a rappresentare i propri concetti di predicati di variabili però e quindi ebbe anche una logica predicata di fuzzy si sviluppò molto complessa molto articolata però per dare l'intuizione fondamentale lui disse beh allora forse i connettivi fondamentali cioè la negazione land e lord si possono modellare dal punto di vista della semantica dei fuzzy set in questa maniera non essere calvo l'appartenenza all'insieme dei non calvi sarà uno sarà la funzione data da uno o meno la funzione di appartenenza all'insieme dei calvi e questo è un'ipotesi fondante proprio ontologicamente alla base della definizione del connettivo not nell'ambito della logica falsi land essere una persona calva e al tempo stesso essere un candidato a far parte del cast del musical hair probabilmente se hai zero capelli è zero e ci sarà un massimo ma poi diminuirà e land dei due set land dei due predicati fasi ha come funzione di membership il minore della funzione che si ricava facendo il minore dei valori dati dalle due funzioni essere calvo e avere i capelli e anche specularmente l'or diventa il massimo e con queste concettualizzazioni base fino a qui abbastanza semplici Zadè fa nascere la fase logic adesso la fase logic ripeto potrebbe occupare libri e corsi interi si potrebbe fare un corso universitario interamente dedicato alla fase logic credo ma io mi fermo qui ci tengo solamente a fare una piccola notazione forse un pochetto personale perché io ho trovato che questa semantica dei fasi set potrebbe essere molto utile non solo in campi tecnologici ma una volta che la si fosse compresa e se ne fosse compresa la portata l'importanza anche da un punto di vista concettuale e direi filosofico qualora la si accettasse essa potrebbe tornare utile anche in altri domini della società civile laddove cioè si va a normare dei comportamenti per esempio in campo sportivo ad esempio o in per esempio in campo ad esempio di materie fiscali ad esempio laddove cioè in vari campi ripeto della vita civile si va a introdurre delle norme basate su misure e soglie perché dico questo perché se noi andiamo ad esempio a definire in ambito supponiamo di prelievo fiscale delle logiche basate sugli scaglioni di reddito certo che si va a fare una cosa per esempio per avere una fiscalità un prelievo progressivo ad esempio si va a fare una cosa che può avere un certo valore morale sociale eccetera però nel momento in cui andiamo a definire delle soglie perché non possiamo esimerci dal definire delle soglie ma quelle soglie le andiamo a intendere in senso netto in senso crisp come dicono gli inglesi quello che potremmo vedere è che potremmo andare a determinare si degli effetti che tutto sommato vanno incontro a quello che si sperava ottenere e cioè per esempio un prelievo progressivo in termini fiscali in campo fiscale potremmo anche andare a introdurre degli elementi distorsivi localmente alla soglia facciamo l'esempio in campo sportivo prendiamo uno sport fondamentalmente basato sullo sforzo fisico dell'individuo come per esempio il ciclismo se noi decidessimo ad esempio in maniera poco ipocrita di dire non è che non bisogna doparsi va bene questa è un'informazione morale però un'informazione che ha poco significato perché poi cosa significa doparsi sostanza per sostanza significherà stabilire delle soglie sotto al quale la presenza di quella sostanza nel sangue per esempio è considerata normale sopra la quale invece è indice di assunzione di sostanza dopante quindi per forza di cose si deve andare a definire delle soglie ora cosa succede che se noi quella soglia la andiamo a interpretare in senso netto allora si va a avere dei comportamenti di questo tipo che lo sportivo l'atleta a campione casuale supponiamo è stato trovato con una quantità di quella sostanza di un infinitesimo inferiore alla soglia è stato è stato considerato non dopato e quindi è stato sottopenalizzato perché lui comunque quella sostanza l'aveva assunta semplicemente che non è stato considerato irregolare la quantità il dosaggio di quell'assunzione nel suo sangue viceversa se si trova di un infinitesimo superiore alla soglia lui si trova ad essere sovrappenalizzato perché ecco sovrappenalizzato perché sovrappenalizzato perché magari viene non penalizzato di un qualche cosa ma viene squalificato dalla per esempio singola tappa o addirittura a seguito di un comportamento giudicato così e veritamente secondo me Truffaldino addirittura potrebbe essere squalificato dall'intera competizione di cui quell'evento sportivo a sé era una tappa come per esempio potrebbe essere stata una competizione come per esempio il Giro di Francia e il Tour de France quello che voglio dire è che certamente la soglia non può non essere introdotta il fatto stesso che uno dica non devi avere una quantità di soglia di quella sostanza superlattata significa introdurre una soglia certamente ci fidiamo del fatto che ci sarà qualcuno esperto che ci definisce o in campo fiscale o in campo sportivo medico sportivo che ci dice quale dovrebbe essere in senso normativo tale soglia ma poi dopo l'errore secondo me sta nel considerare questa soglia in senso netto perché se invece avessimo studiato i fuzzy sets e avessimo acquisito in maniera naturale il concetto di funzione di membership avessimo acquisito anche la dimestichezza con magari le funzioni matematiche che possono esserci utili per rappresentare la membership possono anche essere funzioni lineari una retta oppure magari a seconda delle circostanze funzioni magari un pochino più complesse magari non so coniche cosa si potrebbe andare a fare? si potrebbe andare a dire cose di questo genere tu non è che sei dopato o non dopato come le cose che sono o vere o false te sarai più o meno dopato a seconda del di un qualche cosa che rappresenta la tua il tuo livello di appartenenza fra 0 e 1 per esempio all'insieme dei dopati che potrà essere un qualche cosa che si discoglie dal valore di soglia un quantitativo che magari cresce intanto in quanto tu superi quel livello di soglia definito arbitrariamente a questo punto il valore stesso della soglia sarebbe in qualche maniera ridotto di significato perché non avrebbe la capacità di distinguere le pecore dalle capre e né di mandare in paradiso o all'inferno semplicemente avrebbe l'utilità importante di definire il livello di superamento della soglia e rispetto a quale poi si potrà avere una adeguata e proporzionata in qualche maniera penalizzazione quindi sarai penalizzato di un tot e indipendenza di quanto avrai superato quella soglia non sarai squalificato dal Tour de France perché magari casualmente e mettiamola così casualmente diciamo così un campione fatto in maniera casuale con uno strumento che in quel momento ha dato un'oscillazione per cui tu hai superato magari di un infinitesimo quel valore di soglia ti squalifichiamo dal Tour de France questo credo che se noi avessimo studiato la fase logic così come a me è capitato di doverla studiare quando ero studente credo che a una concettualizzazione come quella che abbiamo avuto noi quando eravamo studenti l'ipotesi di squalificare un un ciclista dal Tour de France per chi ha superato di un po' un valore di soglia supposto che questo fosse stato vero ma squalificare dal Tour de France sarebbe stato considerato come lo facemmo noi quando eravamo ragazzi o giovani una specie di abominio concettuale semplicemente basato sul fatto che fa difficoltà a ragionamento e senso comune considerare delle soglie fasi invece che delle soglie crisp quindi viva la fase logic anche se non la possiamo approfondire in questo corso la lascio al vostro approfondimento culturale vedrete che almeno per le parti più semplici iniziali dello studio di questa materia ne troverete sicuramente un gran godimento concettuale e culturale grazie grazie grazie